Como Inter, ventesima giornata del campionato primavera inizia in questo momento. Baldini vuole il tiro, pallone che esce di poco. Ci sono due uomini a tenere d'occhio Baldini, allora niente tocco corto. Va delgato in mezzo e il pallone passa! Ancora una volta Ghianfi, ancora il pallone fuori verso Scaramuzza, va sul sinistro, calcia, pallone alto. Mandelli punta la porta, cerca poi l'apertura verso Cicconi, carica il sinistro. Radu, delgato in profondità, arriva Baldini, il pallone è ottimo per Kwame che tira! Andrenaci correia! Alto! Uno contro uno, delgato, zona tiro, conta i passi, calcia! Poi Zonta raccoglie il pallone quando il pallone è già sul fondo. Baldini, poi Kwame, si butta nello spazio! Arriva forse sul pallone proprio Christian Kwame. Allora riparte la partita dal secondo tempo, dal risultato di 0-0. Pallone centrale per Correia che controlla, calcia centrale, ancora una volta Andrenaci, para. Tocco fuori, Miang va al cross di prima intenzione, arriva il colpo di testa di Ghianfi che termina fuori di niente. Si sovrappone Moleri, Mandelli cerca il tiro, insidioso Radu. Parte il cross di Baldini, tagliato, Miang, la sponda, dentro Gravione! Il miracolo di Andrenaci! Baccaioco può provare a calciare, va col destro! Pallone ancora una volta, alto, di pochissimo. Si gira Correia, vuole prendere il fondo, tre minuti del cupro che iniziano, ora Correia va al cross. Ancora una volta a terra Baccaioco. Stacca Triveri, poi Kwame, stacca ancora Moleri. Zonta la ributta su, il pelone buono per Correia. Correia a porta vuota! Correia! All'ultimo secondo! Trova il gol che regala tre punti fondamentali per l'Inter! Giuseppe Correia, proprio all'ultimo secondo! Come 0, Inter 1 e finisce qui la partita. All'ultimo, disperato tentativo, Giuseppe Correia. Regala il successo ai Nerazzurri. Dopo tre minuti di recupero, al novantatreesimo, l'Inter riesce a sbloccarla. Con un pallone a centro aria, Giuseppe Correia salta il portiere e mette dentro il gol che regala il successo all'Inter.